Io dopo sei mesi dal morto di Pia e Claudio, dopo un silenzio giornalistico anche, ho fatto una letta aperta al mostro di smettere, di lasciare che le vite di Pia e Claudio fosse l'ultima nella sua tragica storia che sta facendo. Purtroppo non fu corrisposto perché ha ucciso i francesi. Ora fu l'invito, fatti vivo, fatti sapere chi sei, fatti prendere.